Allora, io mi sono infortunata durante il primo tempo di Irlanda e Italia, mi sono rotta al naso, sicuramente mentalmente è stata dura perché comunque era ancora un infortunio durante le sei nazioni, nella stessa partita dell'Irlanda dove mi ero infortunata l'anno prima. Diciamo che però da subito mi avevano detto che sarebbe stato possibile tornare a giocare e quindi ho cercato di concentrarmi e di mettere tutte le mie energie per recuperare il prima possibile e per essere pronta alla prima partita disponibile. Allora, il terzo passo al sei nazioni garantisce la qualifica al mondiale e andare nel primo girone del Woman 15, sicuramente la partita con la Scozia sarà una partita importantissima che dobbiamo assolutamente portare a casa per raggiungere questo obiettivo e noi abbiamo voglia di dimostrare, abbiamo voglia di vincere e spero che in campo si vedrà sabato. Io giocherò accanto a me insieme a Elisa e Ilaria, Elisa torna da un infortunio che è stato abbastanza lungo, abbiamo sentito la sua mancanza in queste prime partite e sono molto contenta di tornare a giocare con lei e con Ilaria è sempre una certezza giocare, diciamo che ci troviamo benissimo in campo e che comunque è una ragazza della quale mi posso fidare pienamente. La Scozia arriverà qua, avrà voglia di vincere anche lei, insomma perché per gli stessi motivi nostri, perché vogliono essere qualificate al mondiale, vogliono partecipare al Woman 15 nel primo girone, quindi sarà una Scozia che ci vorrà mettere tanto in difficoltà, noi dobbiamo essere brave dal primo minuto a partire a bomba e non lasciargli spendere le loro occasioni. Grazie. 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 Grazie.